Aggiungo soltanto che è importante che questo lieve scostamento che abbiamo registrato e che è assolutamente, come io ho già indicato parlando con la stampa a Vilnius qualche giorno fa, venga corretto rapidamente perché è un dato che viene attentamente monitorato dalle istanze europee e quindi bisogna dare l'impressione che sostanzialmente c'è una leggera deviazione rispetto al 3%, ma che il 3% è il dato sul quale noi intendiamo collocarci e rimanere da qui alla fine dell'anno, perché questo è il presupposto per soffocare le residue elementi di tensione che potrebbero venire fuori dai mercati finanziari. Tra l'altro, appunto, sottolineo come le ultime indicazioni dei mercati, sembrava che la Spagna ci avesse largamente superato, eccetera, insomma, questo sorpasso è stato quantomeno di breve durata, ripeto, gli amici spagnoli stanno anche loro facendo molte cose, ma insomma, io credo che i dati fondamentali dell'economia italiana, e come implichiamo anche in questo documento, consentono di ipotizzare un processo graduale di ulteriore riduzione dei tassi di interesse.